Ben ritrovati, si riparte. Prima di ritorno in eccellenza e promozione. E tutti intorno nell'aria si respira un'atmosfera di grande ambizione. Per un 2014 di traguardi e trofei siamo allo start-up di un prossimo turno ricco di spunti. Alla ricerca di punti è l'Alba Longa, che visita il Ceccano in una di quelle trasferte propizie per alimentare la fiammella del podio. E poi il Real Pomezia ritrova il terreno amico. Al comunale sbarca il Gaeta, che lascia al golfo con nella mente il ricordo del pesante KO dell'andata. Persia si augura di ripetersi, col doppio sguardo acceso da sogni di coppa e di campioni per salire sui gradini alle spalle della lupa. Diciottesima anche in promozione. C'è un super scontro al vertice da non perdere. Città di Fiumicino, Nettuno. Due top club a confronto, nella splendida lotta per il titolo. Da un lato Scudieri e Bomber di Fiandra. Dall'altro Catanzani e il suo spumeggiante gioco corale. I suoi ragazzi sono al secondo big match di fila dopo il cede al Lido dei Pini, che intanto raggiunge il campo del Soc e Santa Severa per riassaporare l'aria fresca dell'alta quota del girone. E poi incrocio ostiense per Unipomezia e Nuova Florida. I Crimson saranno ricevuti dall'Ostia Antica, mentre i Biancorossi ritrovano il campus dove approda la pescatori ostia. Chi cadrà nella rete di chi? Chi la gonfierà a suon di gol esaltando i tifosi? Lo potremo scoprire come sempre su Pontina Calcio Show.